Trieste si prepara al G20 per l'innovazione e la ricerca al centro congressi terrà, al centro congressi del Porto Vecchio il 5 e 6 agosto. In arrivo 600 persone da tutto il mondo, oltre a 400 agenti di rinforzo. La città non sarà blindata e resterà vivibile, assicura il prefetto Valenti Evaciuq. Transizione digitale e innovazione. La tappa triestina del G20 a presidenza italiana fa leva sull'industria 4.0, sulla blockchain per il tracciamento dei prodotti e la digitalizzazione delle aziende e delle città per promuovere la ripresa economica post-Covid. Una ripresa che abbia al suo centro persone, pianeta e prosperità. Discuteranno di questo i rappresentanti dei paesi con le 20 economie più importanti del mondo, quelle che rappresentano l'85% della ricchezza del pianeta. A fare gli onori di casa ai ministri per lo sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale Vittorio Colau, che introdurranno il primo giorno dei lavori alla Trieste Convention Center, dedicato ai temi dell'identità digitale e alla regolamentazione per sostenere la crescita e l'innovazione. Giovedì sera è prevista una cena di gala, che a causa dell'incertezza meteo si terrà in prefettura e non più al castello di Miramare. Vi parteciperà anche la ministra per l'Università e Ricerca, Maria Cristina Messa, che invece introdurrà la sessione di venerdì dedicata alla ricerca, giornata in cui le delegazioni faranno visita anche al sincrotrone di Basovizza. La città non sarà blindata, assicura il prefetto Valerio Valenti. L'unica zona interdetta sarà il Porto Vecchio. 400 gli agenti delle forze dell'ordine in arrivo in città per garantire la sicurezza. Se ne farà un uso discreto, ha precisato il prefetto, aggiungendo che il disagio durante gli spostamenti dei ministri sarà marginale.